Il polpo in umido è un piatto tradizionale della nostra cucina. Un secondo di pesce facile da preparare, la complessità è data solo dall'individuare la giusta cottura del polpo, oltre che dalla pulizia, ai meno esperti si consiglia di acquistare un polpo già pulito. Per il resto la ricetta è un evergreen, pochi ingredienti e un risultato che, nella sua semplicità, esalta le qualità di ognuno. Ingredienti 1 polpo da 1 kg 250 g di passata di pomodoro 4 quinti Pomodori datterini Aglio vino bianco Prezzemolo olio sale pepe Esecuzione facile tempo Preparazione 15 minuti Tempo cottura 30 minuti 40 minuti Porzioni 4 La ricetta del polpo in umido è molto semplice, occorre però procurarsi un polpo già pulito, oppure effettuare alcune operazioni per farlo a casa. Fondamentale sciacquare a lungo le ventose, per fare in modo che non resti sabbia, rovinerebbe qualunque preparazione. Vanno inoltre eliminati il becco, ovvero la bocca, gli occhi e la sacca. Lavate il polpo nuovamente in acqua fredda corrente. Il polpo in umido è un secondo piatto di pesce tra i più popolari e amati della nostra cucina. Se lo gradite seguite la ricetta e aggiungete, dopo 15 minuti di cottura, delle olive verdi o nere. Anche i capperi sono un ingrediente che si sposa perfettamente con il polpo in umido. Potete servire il polpo su crostoni di pane nero. Se ne avanzate, tenete presente che sarà un gustosissimo condimento per la pasta. Una curiosità, il polpo prende il nome di piovra quando è di grosse dimensioni. Un'altra proposta, regionale campana, per cucinare il polpo è il polpo alla lucana. Una fra le ricette più classiche è il polpo allo spiedo. Per cucinare il polpo in umido, dopo averlo pulito, tagliatelo a tocchetti. In una casseruola mettete qualche cucchiaio di olio extravergine di oliva e il polpo. Quando sarà ben rosolato bagnatelo con mezzo bicchiere di vino bianco. Fatelo evaporare a fiamma viva. Aggiungete la passata di pomodoro e qualche pomodorino d'atterino, salate e pepate. Coprite e cuocete a fiamma bassa per 30 minuti. A fine cottura cospargete di un trito di prezzemolo e, se lo gradite, uno spicchio d'aglio. Controllate il polpo in umido prima di toglierlo dal fuoco. Potrebbe richiedere 10 minuti di cottura aggiuntivi. Ma qual è il migliore vino per il polpo alla griglia o in umido polpo alla Luciana o in insalata? Questo mollusco dal gusto così particolare vuole in abbinamento un vino bianco di media struttura. Magari un vermentino ligure dei colli di luni, fresco, leggero e con note floreali perfette per il polpo in umido.